Il prossimo 10 gennaio entrerà in vigore il più sconcertante ed iniquo provvedimento della storia della Repubblica italiana, il Decreto-Legge numero 221-2021, cosiddetto Decreto Festività. Questo estende l'obbligo di esibire il cosiddetto Super Green Pass a tutti i trasporti pubblici e in base al suo disposto a milioni di cittadini italiani saranno negati per ragioni esclusivamente politiche e gravemente discriminatorie i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione all'articolo 16, ovvero la libertà di circolazione sul territorio della Repubblica e la libertà di soggiornare in località diverse da quella del proprio comune di residenza, poiché verrà negato agli stessi cittadini anche l'accesso agli hotel e ai ristoranti pure all'aperto. Verranno così ancora di più segregati i cittadini che si oppongono democraticamente al governo e questo come nei regimi totalitari più beceri, impedendo a queste persone la loro vita sociale e lavorativa e negando anche ai giovani il diritto allo studio e all'intera popolazione negando anche eventualmente il diritto alle cure in caso di necessità. E solo ad una lettura superficiale può apparire che questa discriminazione riguardi soltanto i non vaccinati per scelta, perché in realtà questo provvedimento colpirà anche tutti coloro che per le ragioni più varie non potranno avere il super green pass in quanto non possano ricevere la terza o la quarta dose di questa terapia genica che ormai il governo intende somministrare forzatamente a tutte le fasce di età in maniera ripetuta a distanza di pochi mesi tra una somministrazione e l'altra, non curante degli effetti eventualmente anche rischiosi e gravi sulla salute dei destinatari. Quindi anziani, giovani, tutte le persone non munite di un mezzo proprio o comunque site in località che non possono essere raggiunte attraverso un mezzo su ruote, saranno banditi dai trasporti pubblici di qualunque tipo e quindi così segregati. Le conseguenze di questo delirante decreto saranno ancora più gravi nelle isole, a partire dalle regioni insulari Sicilia e Sardegna, ma anche in tutte le isole minori del territorio italiano. Infatti per gli abitanti delle isole non sarà più possibile accedere ai traghetti o agli aerei e raggiungere la terraferma, se non tramite un mezzo privato. Questa è una gravissima minaccia ai diritti e alla stessa vita dei cittadini siciliani e sardi, in primis e isolani in genere. Ancora una volta i presidenti della regione Sicilia e Sardegna dimostrano la loro completa inettitudine, in quanto non sono in grado né di rappresentare ma né tantomeno di difendere i cittadini delle isole, nemmeno quelli che li hanno eletti. Infatti non intendono, non hanno la capacità di affermare nemmeno un principio di giustizia fondamentale come quello di non discriminazione, pur di non dire una parola contro il governo del presidente Draghi, tanto dispotico quanto comunque riverito. La privazione della libertà di circolazione in Europa da parte di un governo nazionale infrange i trattati europei e questa è ancora più grave quando questa misura si è introdotta in via mirata contro una minoranza politica di cittadini per punirli, per punire il loro dissenso rispetto alla linea politica stabilita dal governo. Qui si parla di una linea politica affermatamente mirata a contrastare la pandemia Covid che però non ha fondamento scientifico e serve solo a costringere chi ancora non ha fatto le ultime dosi di vaccino a farlo, a sottomettersi ad una scelta non sostenuta da valide ragioni scientifiche per le ragioni che abbiamo visto tante volte e quindi è una vera e propria discriminazione per ragioni politiche del tutto inammissibile sia per la nostra Costituzione che per i trattati europei e ancora di più la negazione della continuità territoriale per gli abitanti delle isole che godono da parte dei trattati europei delle norme unionali di una tutela ancora più attenta proprio a causa dell'isolamento, della condizione di insularità di questi territori rende questa discriminazione ancora più intollerabile e inaccettabile quindi sappiate che chiunque agevolerà o con semplice inerzia o ancora peggio con delle azioni l'applicazione di queste odiose violazioni di legge costituzionale e dei trattati si renderà automaticamente complice delle stesse e per questa ragione poi sarà chiamato a risponderne sia in sede civile che penale davanti alle corti di giustizia nazionali ed internazionali i presidenti della Sicilia e della Sardegna non opponendosi a queste misure quali i rappresentanti delle regioni insulari a statuto speciale in consiglio dei ministri hanno già mostrato la loro condiscendenza e complicità in queste violazioni e quindi hanno di fatto tradito i loro cittadini oltre che i valori fondamentali del nostro ordinamento per questo a meno che gli stessi non provvedano con immediatezza ad impugnare il decreto legge 221 2021 dinanzi alla corte costituzionale io in qualità di eurodeputata eletta al Parlamento europeo in rappresentanza dei cittadini italiani delle isole maggiori sento il dovere di chiedere formalmente le dimissioni del presidente della regione Sardegna Cristian Solinas e della regione Sicilia Nello Musumeci cari amici vi invito a fare la stessa richiesta inviando ai presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna l'email con la richiesta di dimissioni che trovate nella descrizione di questo video ma se credete questa lettera potrà essere mandata anche a tutti i presidenti di regione che comprendono nel loro territorio delle isole minori e che non hanno detto una parola non hanno fatto assolutamente nulla per difendere i diritti degli abitanti di quelle isole perché nessun cittadino delle isole deve essere lasciato solo privato della possibilità di lavorare studiare, circolare, ricongiungersi con i propri cari curarsi o semplicemente raggiungere liberamente ogni posto del territorio italiano ed europeo come le norme fondamentali della Costituzione e dei trattati espressamente gli garantiscono di poter fare oggi è il momento di agire per riportare giustizia uguaglianza ed equità per tutti per solidarietà quindi verso gli abitanti delle isole mandate tutti questa mail basta un clic oggi per dimostrare che l'Italia è ancora una repubblica democratica o almeno che lo è il suo popolo grazie a tutti grazie a tutti